Torniamo a parlare di energie rinnovabili con la dottoressa Chiara Aviani di Esteco S.P.A. e parliamo esattamente di case passive e che cosa significa una casa passiva. Noi eravamo rimasti alle case normali, le case forse attive, ma la casa passive ovviamente vogliamo sapere esattamente che cosa è. Dunque, una casa passiva è una casa il cui consumo energetico è pari o addirittura superiore al fabbisogno della casa stessa. Per farvi un esempio, tutti quanti conoscerete impianti fotovoltaici, impianti di raccolta dell'energia solare che possono essere utilizzati all'interno di alcuni edifici. Con il progetto di casa passiva si vuole controllare che l'energia che viene prodotta sia pari a quella che viene consumata all'interno della casa. L'azienda per cui lavora, predisposto insieme all'Università di Trieste e a Settimo Costruzioni Industriali, che effettivamente costruisce le case di cui sto parlando, ha predisposto un sistema tramite il quale si possono rilevare dei dati statistici sul consumo energetico della casa, proiettarli verso un consumo futuro e allo stesso tempo realizzare, fare in modo di conoscere in qualsiasi momento se l'energia prodotta dal fotovoltaico, per esempio, ricopre il consumo che è stato rilevato dai dati statistici. Per farvi un esempio pratico, a Trieste è stata costruita in via del Puccino una casa di 160 metri quadri. Quindi questa casa consuma in media 5.600 kilowattora, ma ne produce 6.000 in un anno. Che differenza c'è con una casa non passiva? Una casa non passiva della stessa metratura presente nello stesso luogo geografico consuma 60.000 kilowattora. Quindi abbiamo da una parte una casa che rispetta l'ambiente perché utilizza fonti rinnovabili, come per esempio le sonde geotermiche o le pompe di calore per il riscaldamento e la ventilazione meccanica per il raffreddamento. Ma allo stesso tempo è in grado di non pesare sulla richiesta di energia da parte dell'utenza pubblica ed è in grado di autosostenersi, avendo così un vantaggio sia per l'ambiente che chiaramente per le tasche del possessore della casa. Infatti diciamo che un po' il motto di queste case è che la casa è passiva ma il proprietario è inattivo. Bene, io ringrazio la dottoressa Viani di averci raccontato e portato il concetto di casa passiva che ci mancava. E appunto speriamo che questa sia una buona pratica proprio per il sparmio energetico e anche monetario praticamente del proprietario della casa nel rispetto delle risorse naturali e ambientali. Grazie di essere stata con noi e dell'innovazione che state portando alla conoscenza di tutti. A fra poco con le prossime storie.